e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di questo supporto universale per smartphone che possiamo adattare metterlo quindi nel nostro monopattino è bellissimo perché è tutto in alluminio per quello che offre ci sono anche vari colori rosso nero e argento quindi si adatta perfettamente al colore del nostro monopattino costa veramente il giusto quando è in offerta su amazon costa circa 10 euro c'è già tutto l'occorrente per montarlo basta stringere le brugole che troviamo in confezione e il gioco è fatto vi lascio il link in descrizione fatemi sapere se vi piace o se già avete un supporto per smartphone iscriviti al canale